Come hai fatto a prenderlo prima tu? Aspetta, dallo me intanto Ragazzi, non vedevamo Sei Sonic? Adesso si spiega tutto Non vedevamo l'ora che uscisse E finalmente è uscito Sonic Frontiers Vai, accendilo È disponibile per tutte le piattaforme Noi ragazzi oggi ci giocheremo su Nintendo Switch E ovviamente se in una storia non vi spoileriamo troppo Giocheremo l'inizio assieme a voi Bello Si corre Nuova partita Beh, io direi di iniziare dal Normale Bravo, esatto Non troppo sempre Puoi scegliere lo stile di gioco, azione o d'alta velocità Stile azione Per chi non ha familiarità con i giochi di Sonic e la sua incredibile velocità Siamo all'oscuro Sembra una foresta Dottore Eggman Una chiave? Un sorriso beffardo? Non mi piace Una chiave in granaggio Caricamento del programma I.A No, I.A, intelligenza artificiale Dottore Eggman si è messo a smanettare E ha creato qualcosa Si, si sta attivando È italiano I segreti Che ti saranno miei I segreti degli antichi Un classico Cosa? No E qui abbiamo i nostri amici I nostri eroi Sonic, Tails e Emi Le Starfall Island Sono queste le isole in cui giocheremo E in cui andremo a esplorare per cercare Ikeos Emerald È la stessa voce del doppiatto del film Jesus No, vabbè Questa cosa è molto bella Capita raramente Mi sembra proprio essere la stessa voce Le luci rosse non sono mai Un buon segno Deve esserci una sorta di carica atmosferica Tenetevi Ma infatti è un po' uguale anche quella di Tails È vero, bello Oh no Questo è un portale di qualcosa Attenzione Siamo atterrati Usa L per muoverti In base allo spostamento di L Sonic camminerà o correrà Con ZR scatti nella direzione Raccogli ring Bella la versione 3D Era molto atteso questo gioco Di Sonic Un platform 3D Oh, come devo saltare? Perché stai tornando indietro Sonic? Ho perso un sacco di impunti Credo che il tempo sia importante Rappa Salto Bene Ah, devi conquistare le famose 5 monete rosse Senza quelle Porte Ma questo è un classico E poi siamo in piena atmosfera arcade Del Sonic originale Solo in versione 3D Premi per saltare Scavalca gli ostacoli Che impediscono a Sonic raggiungere il traguardo Premendo nuovamente B Potrei fare un proprio salto Ah, di spiagliare le scatole No, Sonic non farlo Che succede? Ah, ricominci da capo Ecco perché prima ho perso la gara Per prendere il gioco Devo correre come Sonic Con le braccia indietro E tutto in avanti Seconda Capri Velocissimo quando afferri Ah No Preso, grande Bello Iniziamo finalmente Ah Dovevi saltare per riuscire a prendere la moneta lì sopra No, beh, per me dovevi prenderla Anche per voi ragazzi Ho scoperto una cosa che sa che è molto importante Come hai fatto? Ho fatto un turno Qua No, 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 no Ah beh, per fortuna il checkpoint Deve ripartire da qua I punti di domanda ragazzi vi spiegano cosa bisogna fare E quindi vi allenano ad affrontare le sfide del gioco Sì, presa Bello Qua sembra di girare con lui Uh No Ma come hai fatto a evitarla? Secondo me L'avevi presa Sì, fatta Ma l'abbiamo preso un voto altissimo Ma è la prima volta che si gioca Dai Pronto? Uh, allora Questo cosa fa? Ah, quando ho Questo salto Ah, prendi la rampa No, l'altra Quella lì E con quella Sono uscito Confermo ragazzi che è molto veloce Sì E adesso turbo Y Vedi che è già presa quella Oh, ok Y per colpire Devo direzionarmi verso di loro? Bella No, non ti serve direzionarmi Fai da solo Basta schiacciare Y ragazzi Lui va direttamente A colpire Uh Vabbè, bellissimo È colpito tutti i muri È vero Però, guarda che voto ho preso Sì Abbandoniamo il cyberspazio Per avere una B Bisognava scendere sotto il minuto E volendo c'era anche la A E volendo c'era anche la S Quando ti risvegli in un luogo inesplorato Eppure piove Hai compiuto l'impossibile Sei fuggito dal cyberspazio Soltanto grazie al tuo potere Tu sei la chiave Tu sei la chiave Chiave, eh? Sempre meglio di roditore Stai dicendo che posso salvare i miei amici? Trova Ikeo Severa Distruggi i titani Abbatti i muri che si ergono tra le dimensioni Sì, ok, va bene Puoi dimmi qualcosa di più? Vabbè Un indizio è meglio di niente Si parte Sono tre interruttori andiche full terreno Se attivi puoi tenere ricompense E sbloccare una parte della mappa Uno Due Tre Che cos'è? Siamo su Kronos Island Completare le sfide ti permetterà di svelare l'area circostante sulla mappa Una volta ampliata la mappa Così dirà di localizzare i guardiani I portali e i gettoni di memoria Eh, vedo dei robot Occhio Le inquadrate Attacca Quando i nemici vengono sconfitti Generano vari oggetti Come frammenti di abilità E semi Raccoglie abbastanza frammenti Diventeranno punti di abilità Potranno essere usati Per sbloccare nuove abilità Potenziale Sonic Cos'è? Bella domanda Un portale? No, non può uscire niente di buono Ecco Quando ce n'è uno Ce ne sono sempre altri Sono miei? Beh Questi sono facili da fattere Un colpo è via Atmosfera molto tranquilla In questo momento Continua a piovere Vedo un sacco di percorsi Non so mai quale scegliere Sì, perché Si intravedono Degli scalini Ah, questi effetti pop in Entrano le cose mentre avanzi E danno un po' fastidio È bellissimo Ah, sento Il ninja I guardiani sono molto potenti Sono più grandi dei nemici comuni Ed effettano attacchi speciali Studi le loro mosse Per trovare il momento giusto per attaccare Non volevo arrivare qua io Eh, ormai ce l'hai È tutto tuo Grande, grande Uh, bello Sto anche i rallenti No Riprova Con la ventola si sale È molto bene Che carino che è quando gira su qui Ma si sale anche così E così E così E così No Contro le rocce Ah, per fortuna i ricci hanno Sette vite Sette vite Altro volo Uh, questo è bellissimo Il ninja Cos'è per farla Per parare È R È L Quattro per la mente Non mi ricordo Buona Bello questo Ma che per gli attorelli Ce l'hai fatta? Sì Raccogliere l'ingranaggio del portale I guardiani rilasciano un ingranaggio Questi ingranaggi sono molto importanti Raccoglili Ingranaggio Ingranaggio Apri il portale Io ci passo Ruotare la statua per aprire il cancello Il cancello antico sembra essere bloccato Niki cosa stai facendo? Sto ruotando la statua per aprire il cancello L'ho fatto Grande Beh, più facile del previsto Il gioco infatti è disseminato di mini giochi enigmi da risolvere Per proseguire e ottenere nuove elementi In tutto il gameplay dovrebbe durare circa una quindicina, ventina di ora Secondo poi del livello di difficoltà E della vostra pratica che avete assunto Nello a girare vorticosamente e saltare Ora puoi apprendere l'abilità di Sonic Cyberloop Vai al menu dell'abilità per sbloccarla Usa i punti abilità accumulati che puoi vedere nell'angolo in basso a destra dello schermo Sblocca il Cyberloop Corri in giro tracciando una scena luminosa Interrompendo la scena dopo aver creato una forma Guarda che robe potenti, hai visto? Ti piacciono, eh? Rafica accelerata, scatto selvaggio, combo automatica Cyberloop rapido Ah, per usare il Superloop Superloop Un sacco di punti danno il Superloop Potresti loppare tutto il giorno E non sarebbe un giorno sprecato Adesso puoi saltare fino al verso Lo prende, lo prende, lo prende Grande Prendiamo anche la Rafica accelerata Bello, hai visto che si è duplicato Possiamo andare, dimmi che puoi prendere anche Sonic Boom Sì, un calcio ad alta velocità che scatena onde d'urto Che bello Prendilo, sì Poi qua cosa c'è? L'acrobazia aerea Mentre Sonic è in aria Viene circondato da scintille Pocahont per l'acrobazia aerea Effettua l'acrobazia aerea per guadagnare frammenti di abilità Ehi Io proverai a fare un Cyberloop Tra il foglio e tre luci lì Perché no? C'è un punto di domanda Oh, è grandissima Chiusa Che è successo? Tata, che ti ho detto io? Bene E abbiamo svelato un altro pezzo della nostra isola Ecco la gemma Molto bene, chiappala Guarda, sono luccicante perché ho preso tutte le monete Vedo qualcosa di interessante Un altro portale Ritorna nuovamente alla dimensione digitale Vuoi provare? Usa quell'ingranaggio per riuscire a colmare il vuoto tra le dimensioni Tu ce l'hai all'ingranaggio del portale? Sì Un ingranaggio non sarà sufficiente Trova un altro obiettivo e prendi il suo ingranaggio Oh Cosa è che lui ha trovato me? Che cos'è questa cosa qua? Se non tronco gigante Tower Schiva gli attacchi del guardiano Non fado più niente Oh, cambia visuale Beh, è bello che la torre sta ferma Il brutto che spara le cose dappertutto Avvicinati, avvicinati, ci siamo Ottimo Vai, vai, che bello, la smonti a pezzettiri Il brutto rispaventa l'ultimo pezzo perché è quello che lancia un sacco di cose Prova a fare un loop tutto torno a lei Bello Super loop Vai, gira, gira, gira Chiudilo, 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 chiudilo Sì Bello Gli hai tolto un pezzo così Vai, 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 vai Sì Adore un momento in slow motion Ancora un quarto di vita Un quinto Si sono rotti gli ingranaggi È francamente esplosa? Sì È bellissima Tower Ah, quello che è successo a Dr. Eggman ha toccato ed è entrato È la stessa cosa Ha detto che non si può fondare lei Siamo stati ingoiati Questo è molto utile È difficile ricordarsi i comandi perché sono veramente tante Parata continua Premi, tieni premuto L e R Bene Molto bello anche il gesto Turbo doppio salto Colso sul numero Fatta Non abbandonerei mai Il simulatore Bella elastica accelerata Oh, è bellissima Mentre sei in volo Forte Sempre che il tempo si fermi ma intanto Sonic continua a colpire A mani in coro e lasciamo il simulatore È proprio un peccato Però questa cosa è ancora più bella Siamo finiti Il cyber Spazio Corri E una Bello Attento Qua cosa ce la fai? Non ce l'hai fatta No, che forte Quindi adesso nel mondo digitale Come ci è successo prima Green Hill Abbiamo la possibilità di Scatenare le nostre doti Raccogliere un sacco di monete E ovviamente come sempre fare le classiche 5 rosse Per giungere poi la fine al traguardo Sì, passato Bello anche questo Oh Ah, questo checkpoint che si è passato Vai Sì, pick Alello per anello Ahia, non l'avevo vista E tu? E anche io Le spine fanno sempre male Ma l'importante è saltarle Portale Voto D Riprova tu Cosa fai? La prima la voglio Andiamo a riprendere un attimo contatto con i Comandi Non posso uscire No Vai, ce la posso fare No Fermatutto Ah sì Sono molto preoccupato di quando arriverò ai tubi Quelli terribili Y Y Si Preso Ok, grazie Vicky Beccati questo E questo E questo E quello E sali E scendi E risali Y Y Y Y Vai, c'è poi raggiunto Y Y E poi Si Si gira No 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 Papà Che delusione Allora Salta Mi ha uscito il volo Si ce l'ho fatta Incredibile Gira, gira, gira No È il più bello Vai, vai, vai Ma no Questo era buono Secondo me Ma papà Guarda C'era un coso rosso Cos'era un coso rosso Ecco Vai una corsia al centro Ah è vero L'ho persa Vabbè Sei caduto Sono caduto apposta Per riprenderla Lo sanno Curo che hai fatto apposta No No Sì, sì Sicuro Vai No Per un soffio Non l'ho preso Vabbè No Ragazzi Siamo scarsi No Questa era brutta Proprio È un po' smaltone Corri Su Troppo Super Non ho preso Un po' di aiuto Noni Che ce la posso fare Quanto manca Poco Grazie Spero Facciamo così Che la faccio tranquilla In passeggiata Poi un bel salto Sonic non è da passeggiata Eh lo so però No mi sono fatto male anch'io Ma sono terribili quelli O che ti dico Ah Sì perché sono all'ombra E non li vedi Se c'è una E L'ho presa 4.000 che si è rotto Niente Dimentichiamo tutto Usciamo Intanto che si carica Questa è una cosa bella Si può continuare A fare simulazione Il caricamento adesso è completato E devo dire che non è troppo lento Di solito sulla switch Siamo abituati a Caricamenti lenti Eccoci tornati Ops Ho dei guanti giganti O forse ho delle mani giganti Boh Boh E ho ottenuto due chiavi del modulo Un modulo è stato sbloccato E ora può essere aperto Con le chiavi del modulo Cosa ha vedo nel modulo? Ah ma cosa ne è che ho posto di prima? E' più quello che c'era il ponte Ma non completo Eccolo Guarda che bello Raccogli il Chaos Emerald È nostro È nostro Dai Prendiamo il nostro primo Emerald Sbloccato con due chiavi del modulo Nooo Non ci credo È più facile del previsto Attento che ti fai male alla mano Dove l'ha messo? In tasca Ma non è possibile Non ha le tasche così grandi Emily Che cosa hai visto? Stai attento Emily Andiamo da lei allora Imposta dei segnalini Ah per contrassegnare un'area di interesse sulla mappa Ah premendo i Sennò tu puoi dire Oh Questa appunto è la mappa Mi interessa Vai in cerca degli amici Aspetta è arrivato il sole Hai visto? Un bel giro attorno a lei E lo scudo Ah lo scudo potettino Vero Solamente con loop si può toglierlo Ma lui si è riscudato E allora glielo ritogliamo E lui si ritoglie E noi lo Bumia Ancora Questi sono tosti Vai 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 Sei in combo Grande Sì No è tornato a piovere No Ma cosa hai fatto? Sonic E questa cosa si Uh non è buona Sembrava un palloncino carino Invece no Ah fa malissimo Il megafono dei suggerimenti Prova ad attaccare il nemico Tra una scarica elettrica e l'altra Grazie Vai 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 Buona Bene bene Ha perso dei palloncini Dovevo usare il sonic boom Qua secondo me Perché ti permette di Attaccare dalla distanza Ciao ciao E sconfiggere tutti i cattivi Guarda che abbiamo aumentato l'abilità Asura Questo è un guardiano estremo Ha dei tentacoli allucinanti Che è Oh 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 Ma ti vuoi saldici sopra Sonic cosa stai facendo? È spettacolare Oh Ma come hai capito Che bisognava colpirli le alzene Vogliamo saperlo Nicolò Hai fatto pezzi Una zampa? Sì No aspetta No aspetta Non ce n'è ancora No un pezzo Wow quelli ti vengono indietro Vai Comunque sta fumando Ah è rossi indietro Con il blu puoi salire No Ok occhio perché è una zampa che sale Che cosa è una zampa che scende? Vai 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 Sony Ah bisogna prendere la scia Perché non ce la si fa Sì Adesso proviamo a salutarci sopra Ottimo Vai No No Ah delle difese anche No Ragazzi è difficilissimo È bello questo Quindi tu devi saltare Nel momento in cui non ci sono questi cerchi Che ruotano attorno Bellissima asura È veramente bello Perché è tornato il sole? È il tramonto Siamo nella golden hour Ed è molto bella anche la musica Che adesso ha preso volume Si è accelerata Ehm Niente Mi sa che abbiamo perso tutte le vite che avevamo E nel frattempo Lui ti fa fare una piccola prova Ci riprovo Uh E sono due Questi sono questi? Ah Bene Azzurro degli amichetti Che stanno in giro a disturbare Mentre nel frattempo Si sono scatenati delle nuove cerche azzurri Che aiutano E rossi che respingono Vai Sonic Bella lì Bella Ti è passato Ottimo Si 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 Vedi occhio il cerchio elettrico No ti ha ributtato giù No Adesso salgo Grande è vero Puoi camminare sul muro Bella questa inquadratura Qua il 3D funziona bene Attenzione anche a questi mini lapilli Ah Che sono veramente cattivi Che hanno portato addosso Vai 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 Si 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 Guarda che va Mi cacchiero Stato Vai 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 Sonic Bello esplosivo Aspetta Ah anche quello centrale Se ne va subito Che bello Grande Non è rimasto più niente Trano l'ingranaggio che serve a noi Ho capito ma Un guardiano così grande Un ingranaggio così piccolo Ah requisiti per l'accesso Ne basta solo uno Forse è quello che vuole da noi Perché ne abbiamo solo uno Ah no guarda che si accende Cos'è questo Accendiamo Cyber spazio Arriviamo Poi dovremmo pure ricordarci Che dobbiamo andare a cercare gli amici Si Si Bello questo Mi piace La atmosfera è stradale Ci sono cartelli di pericolo ovunque No vabbè Qua sembra di essere nel Sonic originale in 2D Molto arcade Ecco Quelli sono i nostri difetti Le punte E che si vedono all'ultimo Bellissima Oh Si E ne hai prese 2 Se voluto sei riuscito a vederlo Non è banale No Ne hai prese 2 Ah ne hai prese già 5 Io non mi sono neanche accorto Ah e questo È il finale Ma Tony dice giustamente Mi prendo altre monete Magari migliora il mio punteggio Che è Oh D D Ma dai Di sul tempo No Beh però hai fatto 80 ring Raggiunto traguardo Ho trovato tutti i ring stella rossa Per me Eh si Provatelo anche qua Eh vabbè ragazzi Non ce la posso fare Y Y Y Ricordati Ricordati Si È troppo veloce Non capisco più niente Guarda come mi tuffo Come un pesce baleno Si ce l'ho fatta Fanno tutto Wuhu Torso il carro armato Perché la gente mette il carro armato in mezzo alla città Ok dai tempo veloce via 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 Beh gli ho preso 124 monete E tu se la 121 Eh ho capito però Ho preso la B Eh si Con soddisfazione ti mando alla ricerca di Eme Niki basta simulatore Dobbiamo andare a salvare gli amici È bisogno Oltre a portarmi da mani Come il film coming Ci sono i portali viola Che conducono Alla zona di pescare E cerchiamo questi amici Certo 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 Bene Bene 3 sono meglio di 2 2 Sono meglio di 1 Sono meglio di Si 0 Sono meglio di 1 Sono meglio di Andiamo a cercare gli amici Che è meglio E questo Emi Ecco proprio Hei è stata intrappolata è una specie di ologramma è proprio non so dove è tra le rovine troveremo una risposta questi guantoni inquadrati così grandi parla con Amy serve un cuore ah vedi usando i cuori che abbiamo conquistato si ah è rimasta virtuale avevano solo liberata adesso però c'è io sei tu che sei qui solo per metà sto bene ma l'energia che mi teneva prigioniera è entrata dentro di te ah non è la prima volta che mi becco strane energie e poi mi sembra che mi abbia dato una specie di carica beh se è così dobbiamo muoverci se ero in trappola io di certo lo sarà anche Tails hai ragione do un'occhiata in giro e ci vediamo dopo ok? ok sta attento attento e che gusto c'è Altrimenti non c'è gusto per l'avventura Ah il potere che ci ha dato Il gran finale Sfrutta al meglio questo potere Sta succedendo qualcosa Questo credo che sia il guardia nome Il titano È proprio titanico È grosso l'abbiamo capito È cattivo Ha tantissimi occhi Vattene subito Ma da dove arrivi? Anche tu sei in trappola Non avvicinarti al titano Mi dispiace ma ho un lavoro da fare Se siamo fortunati Ti distruggerà E rutta Colpisce Schiaccia Regenera Una tempesta di pietre Alza il terreno Mi sa che questa sono di questo Bello No vabbè Ma ci sono di tanti Esaltanti La roccia La roccia La roccia La roccia Bello Scatto dello schermo Sembra che si monta Forse gli è dato un colpo Forse Piccolino No in realtà non si mettono la barra Oh Ti ha preso Ti sta Scaramentando Via Dai L'olore Sta bene Ok Non posso farcela Alla vecchia maniera Mi serviranno i Chaos Emerald E anche un po' di fortuna Coco Eremita i semi Dai a Coco Eremita i semi della potenza Rossi per aumentare l'attacco Sì ma dov'è Coco Eremita? È lui È Coco Eremita Anche tu hai sperimentato Il sogno digitale A differenza degli altri Io so come ascoltarlo E interpretarne i segreti Per ascoltarlo al meglio Devo restare per conto mio Puoi chiamarmi Eremita Hai trovato dei semi Durante il tuo viaggio? Intendi queste cose Rilasciate a volte dai robot? Proprio quelli Possono spuginare il loro potere E fartene dono Bene Ah eccoli qua Sì ne abbiamo preso un bel bot Livello di difesa aumentato Da 1,17 Potenza da 1,17 Mi sembra bene E qui? Ah eccola Avevi ragione Gli altri cuori ci servono poi Per tornare con Emi Ehi Emi Chi è la tua amica? Ehi Deve trovare il suo vero amore Ho esitato troppo a esprimere i suoi sentimenti Ma se non lo farà ora Potrebbe non aver letto l'occasione No dobbiamo salvare questa storia d'amore E tu hai capito tutto? Credo che la dimensione in cui mi trovo Stia traducendo per me Ah traduttore automatico Noi ragazzi raccogliamo i gettoni In me? I gettoni in me? Memoria di Emi? Ti ho beccato sull'impegno del salto Non vi spoileriamo di più del gioco Devo dire che Sonic Frontier Però è bellissimo È molto molto bello Vi fa sentire veramente Dentro il mondo di Sonic E vi permette di rivivere anche i momenti arcade Più belli della storia di Sonic Riprendendoli Portandoli in questa nuova chiave Ma esaltando questa zona aperta Da dove voi potete andare a viaggiare In mezzo a queste isole Sono molto curioso della prossima Che è quella a tema deserto Andare a cercare elementi Rinforzi Come fai a saperlo tu? Già Ho guardato il trailer Non ho resistito Ma non vi diciamo altri spoiler ragazzi Veramente il gioco è molto carino E merita Nonostante qualche lag di grafica Ogni tanto Quando mi fermate con una corsa Con una scivolata Ricordatevi di mettere un Pollicione E non incappucciate Sonic ragazzi Altrimenti non si vede niente E' pieno di coco Guarda Ma iscrivetevi al canale YouTube GPR Per non perdere i prossimi Video Ciao